Il traffico ferroviario sulla linea Terontola-Foligno è tornato regolare alle 15.26 di oggi, 16 luglio 2021. La linea era rimasta bloccata perché un trio era finito sui binari a causa di un incidente stradale avvenuto sull'AE45 tra Collestrade e Bastia-Umra, oltre 24 ore di lavoro per rimuovere il camion. L'incidente ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, dell'assistenza medica e dei vigili del fuoco, oltre ad una gru per risollevare il mezzo che trasportava plastica.